Mi appoggio è il titolo piuttosto originale ma che ben descrive la bella mostra fotografica di Tommaso Teora, allestita a Castelnuovo Garfagnana all'interno della Sala Suffredini. La mostra, che raccoglie 35 fotografie, si è aperta il 12 aprile ed è visitabile fino al primo maggio. Questa esposizione fotografica è il frutto di un lungo lavoro. Sono in mostra opere scattate anche 30 anni fa. Teora con questa mostra ha dato il meglio di sé, coinvolgendo personaggi legati al territorio garfagnino durante il loro lavoro quotidiano o in altri casi durante i momenti di relax. Siccome io ho tanto materiale della garfagnana, ho cercato di fare una cernita su persone che erano appoggiate al bastone e il titolo mi è venuto in mente di fare Mi appoggio, che mi sembra un titolo azzeccato perché la gente resta incantata soprattutto per il titolo. e se le foto sono 35, foto state fatte in 30 anni, la prima è del 1989. Questa mostra che sta ottenendo un grande successo va ben oltre la fotografia in quanto osservando questi soggetti, i loro sguardi, le loro mani provate dal lavoro ci riportano tutti quanti in un mondo che sta scomparendo. Tanti visitatori, dopo aver osservato le foto con attenzione, sentono il desiderio di complimentarsi con l'autore o lasciare un messaggio scritto. Ma mi colpisce il fatto che tanti di loro si soffermano parecchio, guardano le foto più di una volta e poi tanti di loro si mettono a scrivere nel quaderno e scrivono delle bellissime cose, sono colpiti e vuol dire che queste foto trasmettono qualche cosa nell'animo della gente che viene a visitare la mostra e questo mi fa un gran piacere. Grazie a tutti.